Ciao ragazzi, un saluto da Luca Di Leonardo di TuttoFantacalcio.it Come di consueto in questa rubrica andrò ad analizzare la giornata, in questo caso la 26esima, con 5 consigliati, 5 scommesse e 5 sconsigliati per quanto riguarda questa giornata. La 26esima giornata che inizierà con l'anticipo Lazio-Bologna di sabato alle ore 15, ricordatevi quindi di schierare la vostra fantaformazione entro non oltre sabato alle ore 15. Se poi avete dei dubbi di formazione riguardo a chi schierare potete scriverci qua sotto sui commenti di YouTube e sarà il nostro onere rispondervi nel più breve tempo possibile. Ricordatevi di mettere un like al video se vi è piaciuto e chiaramente vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per essere sempre informati sui video che andremo a fare periodicamente. Inizio ora quindi con i 5 consigliati di questo turno. In porta consigliato Stracoscia. Nella sfida con il Bologna il portiere laziale può essere rischiato. Il Bologna che nelle ultime 3 giornate ha fatto appena una rete. Stracoscia è ormai diventato un top di reparto. In difesa il nome consigliato è Manolas. Nella sfida contro il Torino. Un Torino che ha dei problemi dal punto di vista realizzativi. Manolas difficilmente in casa prende un'insufficienza. Può essere assolutamente rischiato in questa sfida. A centro campo il nome consigliato è Nengolan. Ex di turno. Sfida appunto la Roma a cui non ha mai segnato. Di solito non fa partite bellissime contro i giallorossi. Però penso che questa sfida di domenica possa fare la differenza. In attacco il primo nome consigliato ovviamente è Ronaldo. Alla ricerca del dodicesimo gol consecutivo in Serie A. Mentre l'altro consigliato in attacco è Rebic del Milan. Lui è assolutamente il più in forma della compagine rosso-nera. 6 gol nelle ultime 6 partite. Indico ora le 5 scommesse di questo turno. In porta la scommessa e consigli. Sfida un Brescia che in trasferta ha segnato appena 8 reti. Consigli che comunque è anche un buon pararigori. In difesa la scommessa è Strieger Larsen dell'Udinese. Che sfida la Fiorentina, una Fiorentina offana di Dalbert. Quindi dalla parte di Larsen aggirà o Venuti o Terzic. Quindi Larsen può sicuramente fare una buona partita. A centro campo la scommessa è Pasalic dell'Atalanta. Che va a sfidare il Lecce in casa propria. Pasalic che non è detto che possa partire titolare. In ogni caso schieratelo perché anche da subentrante può essere decisivo. In attacco il primo nome scommesso è Berardi del Sassuolo. Che ha la ricerca della sua decima rette stagionale. Mentre l'altro nome scommesso in attacco è Cornelius del Parma. Per il danese un'ottima media realizzativa. Per lui tre gole e un assist nelle ultime sei partite. Indico ora i 5 sconsigliati di questa 26esima giornata. In porta ha sconsigliato Skorupski del Bologna. Che sfida appunto la Lazio in trasferta. Skorupski che dovrebbe recuperare dal problema avuto alla schiena. In ogni caso valutate le alternative che avete in porta. In difesa lo sconsigliato è Lucioni del Lecce. Che sfida un'Atalanta che segna almeno due gol in ogni partita. A centro campo il nome sconsigliato è Cristante della Roma. Per lui appena un gol in stagione e tante assenze per infortunio. E può andare in difficoltà a cospetto del centro campo cagliaritano. In attacco il primo nome sconsigliato è Pinamonti del Genoa. Che da Nicola è visto indietro rispetto a Pandev, Sanabria e Favilli. Altro nome sconsigliato in attacco è Lozano del Napoli. Gattuso non lo vede minimamente. Dovrebbe giocare come vice in signa ma in signa risulta intoccabile. Quindi per chi ha Lozano ancora una volta schieratelo in panchina. Ecco quindi ragazzi l'analisi di questa 26esima giornata. Vi ricordo di seguirci nei nostri social con tutte le nostre rubriche e con i live che sarà online nel nostro portale sabato dalle 9 alle 15. Un grosso saluto dallo staff di tuttofantacalcio.it e buon fantacampionato a tutti. Ciao ciao!